buongiorno ben ritrovati la vedete questa questa è un'auto certificazione ebbene si è tornata per il momento solo il lazio in campania e lombardia ma temo che tra un po tornerà dovunque e temo anche che arriveranno altri pieti certo non si arriverà spero almeno al lockdown di marzo ma saranno misure sempre più simile e forse data la situazione che stiamo vivendo dati contagi date le ricoveri in ospedale forse è giusto così ma non è giusto essere in questa situazione adesso credo che ci fosse modo di evitare tutto questo è incredibile che oggi parliamo di ospedali pieni parliamo di file per i tamponi parliamo di carenze di medici e infermieri non capiamo bene cosa stanno facendo i medici di base e soprattutto è incredibile che ancora oggi sono persone tante persone in attesa della cassa integrazione ebbene questo foglietto qui non so se ve lo ricordate avevo strappato avevo strappato il 18 di maggio con grande sollievo sperando che non ci sarebbe più servito e invece ce l'ho di nuovo in mano e dunque è certo non è andato tutto bene se dobbiamo stare a casa non possiamo starci così senza capire il perché